Io penso che in una comunità come la squadra bisogna avere delle regole e rispettarli. Io sono il primo che le rispetta e penso che sia una cosa normalissima. Come credo molto in un rapporto franco, credo che bisognerebbe soprattutto entrare nel cuore dei giocatori, oltre che nella testa, perché nella testa è più facile avendo il comando. E mi auguro che in poco tempo, perché non abbiamo moltissime le partite, si possa creare quella unità di intenti che aiuti la società, la città e i tifosi a arrivare all'obiettivo che è sempre ultimamente molto sognato. Noi siamo arrivati a questa conclusione soffertissima, ripeto, perché un esonero è sempre una sconfitta per ambe e due le parti. Io ho molta stima in Maurizio, veramente come persona eccezionale, però in questo momento dovevamo per forza di fare qualcosa. Ci siamo ritrovati al punto di dover scegliere, è stata molto critica la scelta. Ieri sera siamo stati fino a tardi, abbiamo avuto un colloquio con altri mister e siamo arrivati a Giovanni, considerando tante circostanze che lo rendono positivo in questo momento. Poi chiaramente il campo parla, daremo noi il meglio a lui, lui darà il meglio a noi e cerchiamo di centrare questo obiettivo che tutti speriamo.